Non è una novità il disagio che vivono alcuni paesi del Cilento ubicati in zone meno centrali riguardo la mancanza di servizi importanti come possono essere una posta o un pronto soccorso ma anche la difficoltà di accedere a essi, quindi la vera e propria mancanza di possibilità che sta portando mano a mano allo spopolamento del nostro territorio. Ormai è un dato di fatto che i giovani cercano di emigrare dal Cilento in cerca di un mondo che dà più possibilità e che offre loro ogni singolo servizio o bisogno. Però c'è ancora chi rimane qui che cerca di vivere nel Cilento nonostante tutte le difficoltà che comporta vivere in questa splendida zona e per questa ragione c'è bisogno di un intervento urgente al fine di dare loro la possibilità di avere un lavoro, di sfruttare un servizio che in altre zone sarebbe facilmente accessibile. Le istituzioni devono intervenire, devono farlo per chi continua a dare linfa al nostro territorio, per chi combatte ogni giorno per il Cilento e ci rimane a testa alta, per le persone dei piccoli comuni che per usufruire anche di una visita medica o di un prelievo di denaro devono effettuare spostamenti non piacevoli. Per fortuna nel nostro Cilento c'è chi si impegna per rendere anche dei piccoli comuni più attrezzati come i sindaci di Salento e Omignano. I cittadini dei due comuni confinanti era da tempo che lamentavano la mancanza di un ATM di poste italiane in zona ed erano costretti a spostarsi in altri paesi per effettuare le operazioni. Con lo scopo di eliminare questo problema i sindaci hanno deciso di recarsi a Roma, alla sede di poste italiane, per richiedere l'installazione di un postamat. E nella giornata di ieri il sindaco di Salento, Gabriele De Marco, ha annunciato tramite i social che le poste hanno preso in carica la richiesta e che nelle prossime settimane sarà valutata attentamente. Il Cilento in alcune zone manca di accessibilità e di servizi e in più si rischia lo spopolamento, ma per ora c'è chi ancora lotta per la nostra splendida terra.